Questa Play, assolutamente non modificata, altrimenti non è compatibile, è avviata con FreeMC Boot. Una modifica che tramite il programma chiamato OPL ci permette di aprire giochi da chiavette USB oppure da memory card modificata MX4 SEO, che è molto molto veloce. Stiamo aprendo GTA Liberty City e funziona in modo perfetto. Però queste modifiche qua, sono compatibili con tutte le PS2 Slim? No, dove sotto qui c'è scritto 8C. Su questa Play, se lo vado a collegare, non è compatibile. Sulla PS2 fatto invece, possiamo leggere i giochi tramite questo adattatore qui, che lascia il link in descrizione, i giochi tramite SSD o tramite hard disk, che i caricamenti sono molto più veloci dall'USB. È possibile avere il FreeMC Boot direttamente nell'hard disk? Certo che poi, come in questo caso, io ho avviato la Play e il FreeMC Boot si avvia, la memory card non c'è, la lista dei giochi. Eccola qua, tutta la lista dei giochi che abbiamo caricato su questa hard disk. Ragazzi, la visuale è perfetta.